Un belissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile Da ci siamo un po' molto interessato in cui è davvero rilasciato Volto nel video, un po' mi piace di vedere Le vedi due amici In questo video vi ho vedi stato un po' di tecniche Ma si예요amente, ci rimando anche molto Un po' di parte della piazza E poi ci sono un po' di termine social E poi ci sono un po' di tecniche Non c'è nessuna persona con il supporto? No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno con Simon. Non conosce proprio la vita che c'è, ma non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno per dare un buon registro. Non c'è nessuno con il microfono? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno. ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ma non c'è nessuno. Non c'è nessuno. E' nessuno che c'è nessuno? Sì, sì. Ciao Elena. C'è nessuno. Io sono Dani, che è la mia compagnia di Rosi. E io ero in Dante. Sei contenta di questo? E io sono contenta, che penso che all'ina aperta in un certo senso mi rappresentavo a dare, in un altro senso, in un altro senso, in un altro senso, in un altro senso. ma in un altro senso, in un altro senso, in un altro senso. mi raccontavo a scritto in un altro senso, tre frasi, ci si contaste per loro? Io penso che ci siamo in un altro senso, un tanto. Anche sullamo alla pubblicare, anche noi, e alle persone, anche noi, siamo in un altro senso, anche noi, anche la mia band, anche i nuovi mici, anche anche in un altro senso, e anche in un altro senso, da un altro senso. con d'artboi maestri. Sognese bello fatto Charlie treppi proessi, stai pensati a perdere un po' di menz, cos'è poi sviluppato il progetto? Ma, un fatto un po' perdere proessi, e ma zic, da matmange empropi di giung, in Savogna ci sono trezzi un po' sviluppato, all'inizio faccio un po' di testo, un po' di testo, un po' di testo, un po' di mangi, un po' di mangi, un po' di mangi, un po' di mangi, e un fatto che dopo proviamo con la band, insomma trezzi, al questo è un bel sviluppo.